e ciao a tutti siamo tornati e sono tornato se insieme a io è un fantasma è comunque qui ho iniziato a fare il tetto non ho mai ancora presentato è un fantasma madosca un fantasma formaggine formaggine via dai allora non posso volare bene è comunque fatto un po il tetto della casa ora tocca al pavimento allora iniziamo polvere da sparo iscrivetevi al mio canale se ancora non sapete se no vivere il cancro il coronavirus se no mettete le carine non vi iscrivete giusto giusto ho paura per loro io dico sempre buona fortuna ma io scherzo ovviamente loro sono buone persone e mettono sempre like vero buone persone che siete voi e a casa giusto che buone persone c'è una bravissima mi mettono sempre tanti like a me sono buone persone perfetto prendi un po di carbone posso mettere la carta nella cassa non credo allora qui sarà la cassa dei bloc quindi te vai qua te vai qua prima di tutto vendiamo questo car call che che perché chicchi il car che volevo avvisare che farà dei video comunque come in questo mondo molto probabilmente però molto probabilmente perderò di nuovo sto mondo ma non vi preoccupate mi salve proprio in tutti i metodi a salvarmi i progressi no no raga fidatevi che li salverà li salverà sicuro almeno se ha una campagna anche soft dovrebbe avere che ce l'ho ok ok i blocchi no i blocchi d'oro vi ricordate quando li ho trovati sul portale no li hai trovati sul portale e poi ti faccio vedere poi guardi i video e e poi ho trovato i diamanti li devo mettere da un'altra parte poi anzi no troppo rari per stare la questi blocchi quindi è una cassa nascosto anche diamanti no ok così questi blocchi credo vadano bene poi quando voglio dire alla casa ok a ovvio devo fare le fornaci comunque avete visto la skin c'è grazie ovviamente non l'ho messa io ma chi l'ha messa suo padre l'hai messa a te sono entrato nel suo account chissà come e sennò come avrei fatto ma io pensavo a chiamarmi normalmente appose il telefono ma come avrei fatto a un meme a un meme allora tu mi hai mai comunque raga noi ci siamo incontrati già nella ma d'osco siamo nella realtà ora va bene ovviamente dobbiamo fare una casa che si rispetti non da poveri e ho capito che pavimento metti perché c'è una cassa a terra ok tutto normale sto mondo non era brain ok non si gira più a scatti che bello vi ricordate nello scorso episodio alla fine tutto a scatti non riusciva a costruire un delirio ma tu mi vedi video quell'ultimo quello con la terra nevata no? si il deserto innevato eh si al one qui guardi tutto guarda che bello che è non si vede con l'elmo togli l'elmo poi lo rimetti non si vede lo stesso niente non si vedevano gli occhi guardate vi faccio vedere oh boh si immerge nell'oscurità raga no che figo non si vede praticamente niente vero nell'oscurità è tipo un ghost è sotto le coperte ti fa paura no fantasma formaggio mangio allora guarda quando mangi oh no vabbè dai dobbiamo fare le crafting table no le crafting table ce le avevo no domande posso tenere premuto e lo metti in giro lo so hai fatto una crafting table mhm comunque c'è bello minecraft PE vero? si comunque quei 74 erbi che avevo vedete questi non li ho citati dalla creativa ve lo può giurare lui vero? vero? si no è vero dai dillo si si e allora le avevo trovati in un villaggio non proprio si si e poi li hai messi cioè nella creativa non li hai presi c'hai quei portali no che si trova ne ho trovati ancora mentre lo fk ah ecco ok oddio si è si è arbitizzato qui eh no e li ho trovato no in creativa non li ho presi no no e comunque sapete quelle arbette anche che si trovano non ho preso quelle arbette perchè volevo fare poi una roba tutto intorno agli arbette qui vi faccio vedere non lo ho preso in creativa ve lo afficuro raga non fate gli haters perchè non lo ha e comunque anche quelle lampade me ne sono craftate c'è gli hater c'è gli hater eh si no quei portaline eh non si può li mettere lì serio? si posso assolutamente mhm della terra si poi la metto inizio già un po' a fare così poi la continuo dopo dai vieni ecco qua mhm qua è fatta anche così ecco qua ok raga allora dopo che abbiamo fatto questo ovviamente non mangio erba come dovresti mangiare erba mhm ma faccio questo mhm questo mhm non si dice mangiare erba si dice mangiare germogli del nede inglutire erba si dice guardate che è successo in così poco tempo mi sono fatto hai vero vero le zilla oh no raga il letto il letto il letto è mhm hai fatto? si si ce l'ho da amo se no tu pignoli l'hai fatto creato ormai urca dormo sempre alla perfezione fuori eh vabbè tralasciando adesso è settato il punto di spunto allora vediamo com'è così bello bettulla si sta è figo fare questa roba diversa si forte verde ma vabbè ok diventa soltanto un blocco o rompila slab rompila slab figo allora non è come in minecraft che spesa voglio quello vecchio si ho 1.16.0.60.5 oh raga ho finito manca ho finito i blocchi ah no che triste eh sì ma mi servono quelli di bettulla non posso fare uno scherzo eh vabbè ma non è che sei ricchissimo eh lingotte smeraldi eh va bene le mele sondari eh mele d'oro posso diventare la mele d'oro? eh beh se metti la cosa no come si creano le mele d'oro? le trovi? no allora le mele d'oro si creano con una mela nella crafting table e una mela al centro e tutto intorno lingotti d'oro tutto intorno si voglioci o vede cioè no non ce ne bisogna deveva rotto lingotti no cacchiarola e beh è fortissimo è sicuramente incantata eh ma mi è incantata sai che è il lavoraccio non me la ricordo manco io la virtù è comunque bella eh la birch il legno preferito chiedemmi non era il nero eh si è vero era il legno nero non so razzista proprio i legni i legni possono essere gli stessi colori quanto legno c'è? abbiamo sterminato un albero Greta Thunberg ne sarebbe felice eh? ecco qua Greta Thunberg ne sarebbe felice troppo secondo me ne sarebbe anche lei in Minecraft eh no secondo me in Minecraft in Minecraft costruisca tutto di cobblestone incenerisce tutto non uccide gli animali perché è animalista ho un po' di terra messo lì ecco fatto ok ok raga il birch una lingua di birch una lingua di dirt non ce n'è ancora so uno stack preciso comunque mi sospettiva un po' no 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 non era preciso non avevo un altro stack hai trovato ancora perfettamente no le volevo mettere qua ne avevo altre per metterle lì ne ho messo un po' quindi te ne sei ritrovati 64 giusto? no più di 64 ok ah cioè al one a parte ste... perchè mi hai piazzato? li avevi piazzati nell'altro nell'altra casa che non la farei mai vedere quella bruttissima si infatti infatti ah è vero non li posso più riprendere mmm ma dove era bruttissima raga se se superiamo i 10 like cosa che spero io ve la faccio vedere che brutta come come questo blocco piazzato lì raga è brutta forte eh se se lo dico io me dove le crede sei diventato la parola me dove le crede e non si rompe me eh hai fame eh hai fame tu hai fame? no guarda le tue coscette oh meme oh oh legna di birch non va oh impregiato legna di birch eh dato che io sono ma scrivetemi nei commenti ma scrivetemi malato di commenti scrivetemi nei commenti qual è la vostra razza di cane preferito perché? non lo so cosa c'è? eh scrivetemi la vostra razza di cane preferita eh scrivono anche te qual è la tua razza di cane preferita? il pastore tedesco cosa? devi dire l'aschi qual è la tua razza di cane preferita? posso l'utilizzo? e abbiamo lavorato per 70 volte qual è la tua razza di cane preferita? ah è vero cosa dovevo dire? l'aschi ah ok posso l'utilizzo va bene dai ma c'era ma c'era una bargeletta perché gli aschi hanno i colori degli occhi di base vabbè era pessimo quindi non la dico guardate che casa di birch impreggiata un po' di legno diverso eh si l'ho messo apposta e questo episodio si chiamerà la casa istrutturata di birch 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 ehm magari forse devo craftarmi più fornaci se voglio fare la roba che volevo fare ah i miei capelli cavolico devo craftarmi altre fornace ah che bello prendere 39 torce dalla casa brutta che ci avrò messo a 70 anni e qua è storto pure dai si sa che non mi piacciono nemmeno ho guardato quanto tempo ci hai messo e beh si è andato a cagare no il senso è buono davvero eh dillo che è vero che senso tre ore che sono qua non posso manco andare in bani e beh si è vero è lontanissimo quella casa eh eh guarda qui in bani non ci sono manco stato mai ma non è vero c'è stato un casino ma cosa stai dicendo va bene raghi spero di trovare una caverna non uso le hack forse si e come? no vabbè dai chissà come ho fatto a ottenere quella skin ma me l'hai messa a te ma non so mai che chissà come ma me l'hai messa a te non con le hack no non hai usato le hack? secondo te ho installato normalmente le hack sul tuo telefono le ho usate per mettere ti la skin si no ok ecco le 8 eeeh un sistema di hack bene bene no dai scherzo me l'hai posita internet vero? c'era il copyright no ok ok vabbè lo fanno tutti possiamo sì questo è loro eh tutti per le loro skin ok raga no sto per finire il piccone vabbè tanto ne un altro scavo con la fortuna in persona diamante quanto c'è vuole ha ruttato da quanto tempo che sono in miniera eeeh torno su no 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 forse torno su oh 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 oooo aaaaah aaaaah ma non irla Si sente tutto Tutto che? Nel cuffio me le stai rompendo Ma non sai le cuffie? Sei qua Si sta bene a mentire Io sto usando le cuffie Cosa stai dicendo? Ma Perché vuoi essere vicino a me sempre In qualsiasi caso Eh ok Eh scusa Non volevo esagerarti Ma Ma tu Donna che urli Che fai Facano l'olore No gli occhi Visto? Visto? Io uso troppo il cuffie Dai Si Però visto che Nel video ho fatto schifo C'è la peggiore partita che io ho Ma tu giochi sempre così Ma cosa che faccio quasi sempre Sconfitta? Un sacco di kill Quasi sempre sconfitta no? Quando mai fortnite ti dice sconfitta A parte nella modalità della tempesta Che c'era stata nella season tipo Che era molto figa e voglio che la rimettono Spero che Epic Games Guardi questo video Non mi sparare brutto Scheleton Che non sei altro Davo Ti spazzo Maledetto Perché non posso mai fare niente in pace Fatemi dormire Mattina finalmente Che notte Che notte Che notte Che notte Che notte Prenditi il letto Tutto un po' di carne in marcia Ragazzi stanno i creepy Creepy elevator Roblox Ok raga Riuscirò a uccidere questo creepy Vabbè solo una roba nucleare La metteci l'acqua poi Sì fu un piccolo lago Oh il mio animaletto domestico Ma ciao Ti attacca eh Ok Hai ucciso il tuo animaletto domestico Sì Ora io sono andato in miniera Oh mio dio quanto Schifo Tu sei un mob Io Ma cosa stai facendo Tu sei un mob No Perché dovrei essere un mob Perché sei brutto quanto loro Non mi hai mai visto in faccia Ma non è vero Ma sei qua Ma cosa stai dicendo Va bene Sì 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 ok 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 va bene va bene va bene Eeeh I meme Sono belli Aiuto raga Ok Eeeh La vita La vita La vita E' quella che fa schifo Fa schifo Fa schifo No dai Allora Mi mancano po' Mi mancano pochi fornaci Citaci Guardate che bella entrata di fornaci Nella città fornaci Che città? Fornaci Che nome originale Eh beh E raga Guardate come la bellissima In questo momento Nick nella versione Guardate che bella La città fornace con due blocchi d'oro E nella versione 1.16.0.61 Bravissima E l'ultima 1.16.0.63 Quindi tipo ancora poche versioni E questa versione si disinstallerà Perché è troppo vecchia E dice client obsoleto Oh mene Ma sei tu obsoleto Senza spesa Quindi mi sa che Se non hai l'account Microsoft Guardi tutto il mondo Mi piacciono nemmeno anche a me Mi piacciono nemmeno anche a me E tu non mi piacciono nemmeno Ah che bella casa Obsoleta No aiuto Basta muoverti Ma che problemi hai con me Comincio anch'io con me adesso Non voglio cominciare con me Mettico Sei memettico Quante porte vuoi fare Sei Ora vedi perché Sei porte Allora una porta obsoleta qua Benissimo Vi sei obsoleta È vero Le porte obsolete Si chiamerà questo episodio E casa ristrutturata E casa ristrutturata Ecco Non entrano più i mobber Mobber Sembrano schifo vero? Si Come si? Devi dire no Ovviamente Perché Ora tu l'hai visto Ora no Niente scusami Non volevo fendere la tua casa È bellissimo Ecco Bellissimo Manca un blocco Ecco qua È come un comodino La crafting table Aspettate Ma no E' stata shiftata Non mi dovrebbe Ok Se non ci piace niente Sopra Vanno vuoto Deve andare a uccidere Un altro povero Obero di Birch Basta muoverti Per favore Mamma mia Mi fa venire in mente BASTA Viva i meme Ma senti che mi muovo Attraverso le cuffie Ma non No Non abbiamo le cuffie Perché Dai raga Allora Scusate Ma mi sto facendo impacere A sto nano Faccio un orticello Nel prossimo episodio Va bene Spero che il video Non vi sia No scherzo raga Spero io faccio i video Per voi Anche pari meme Mi piacciono i meme C'è qualcosa di male Vabbè E niente ragazzi Iscrivetevi al suo canale Iscrivetevi al mio Esatto Esatto Se non lo fate Le spade di ferro Si occuporranno Alla resistenza Si No che ho messo Nel copyright Ma cosa Non c'è copyright Se invece Il video di pantella Se c'è sempre Eeeh Un altro copyright E' arrivato Ma cosa Finiamo giusto Sto giardino Giardino Dai no Ma tutto orreto Poi qui A giusto Non vi preoccupate Faccio Riscaldo Questa bella roccia Bella mica tanto Vi vale default skin Giusto? Perché? Non lo so io Non mi faccio Una mia default skin Vabbè E noi ci vediamo Nel prossimo episodio E va O la miniera Ebbè Come ho preso Sti blocchi Sennò Quelli di No Di De 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 pietra Certo C'è la miniera Apposta Scusa E' come certo Dai Eh ho detto Certo Non vuol dire Contrario Quasi Contrario Ok Certo Finito Esatto Nel prossimo episodio Sarà l'epi Raga Fidatevi di me Sarà l'episodio Più epico Che Un lama Davvero No Non lo voglio Ci dare Voglio Voglio Scambiare C'è il tizio che ti ha guardato Allora Sei uno schifo Puoi prenderti tutto No No Li ho commerciati Li ho commerciati Che tonno Ti sei preso i semi Di Di cosa Cocomero Tipo Di Cocomero Ti sei preso i semi Di Cocomero E ho perso i miei smeraldi Vabbè riso però Ma perché sta morendo Oh ma Oh ma cosa mi sputate Non gli ho fatto del male Non c'è il lucro No non gli ho fatto del male ragazzi Non chiamate il WWF Esatto Seguite lui E vabbè ci riamo Bea